E ora a proposito di lavoro, parliamo di una start-up Aretina, ne parliamo con Simona Santi Laurini che è al All3 Studio, vediamo. Siamo a Dolmo in un luogo che ha fatto la storia dell'intrattenimento per la provincia di Arezzo e questo luogo adesso si sta trasformando e diventerà tutt'altro. Conosciamo il nome, oltre, e chiediamo a Marco Talladira che cosa ospiterà questo spazio, chi è quasi pronto. Siamo addirittura d'arrivo, mancano davvero le rifiniture, come si dice, e il nome come anticipato sarà All3 Studio, e sarà uno studio rental per aziende, per videomaker, per fotografi e per case di produzione. Ecco, già nel nome infatti c'è la spiegazione di quella che sarà la vostra attività professionale, un'attività molto particolare e molto professionale che qualificherà anche la provincia di Arezzo che non ha spazi di questo tipo. Spieghiamo appunto All3 perché sono tre ambienti, tre servizi che voi darete. Quali sono questi servizi? All3 sono le tre sale che ospiterà questo spazio. La sala più importante è la sala di posa, la sala limbo, il limbo ciclorama, il primo della provincia di Arezzo, è comunque uno dei più grandi del centro Italia, di 8 metri per 8 con una forma AC, se ne trovano pochi in zona, quindi pensiamo, ormai con la ventennale esperienza dei soci, che possa essere utile a tutti gli altri professionisti per sviluppare dei progetti di valore e professionali. Ecco, qui si parla di uno spazio adatto per shooting fotografici, per girare dei video sostanzialmente, e tra l'altro voi qui applicherete una tecnologia a livello di luci che è davvero unica. Ce ne sono poche in giro, un nuovo sistema di light panel studiato sempre negli Stati Uniti, studiato da grandi registi, tra i quali non solo uno che è Martin Scorsese che usa questa tecnica. Proprio per questo e per altre tecniche che utilizzeremo qui e che metteremo al servizio di professionisti e aziende, faremo proprio delle giornate dedicate di formazione gratuite per fargli utilizzare questi prodotti. Cominciare comunque a conoscere anche loro queste nuove tecniche e poterle utilizzare per far crescere i loro prodotti, le loro produzioni. Ecco, sempre a questo proposito, a proposito di tecnologia, avrete anche una, chiamiamola telecamera particolare, per farlo conoscere ora a chi ci sta guardando. È un braccio sostanzialmente, spiegacelo tu. È un braccio meccanico, si chiama un robot antropomorfo, sul quale si possono attaccare varie telecamere, dalla camera cinema a qualsiasi camera il cliente o il professionista abbia bisogno. E anche questo è il primo, è l'unico nella provincia e forse in regione, forse solo un'azienda a Firenze ha un altro braccio che usa, però non noleggia a terzi. Ecco, c'è poi anche lo spazio dove siamo adesso, lo spazio living che verrà sempre affittato alle aziende che potranno brandizzarlo per le loro presentazioni. C'è uno spazio open bar, quindi ecco, varie funzionalità che possono essere sfruttate, senza dimenticare quello che c'è stato qui. Poi tu, Marco, ci hai anche lavorato, insomma. Ricordiamo lo Storyville, il Caremaschi, ci sono stati dei grandi nomi, quindi per te questo posto è anche un valore affettivo, dai. Sì, no, sicuramente per me, guarda, è uno dei primi lavori. Ci pensavo quando mi è capitata l'occasione di poter valutare, perché erano anni che cercavamo un posto per chiare questo rental studio, e quando mi è capitata questa occasione ho ripensato al primo volantino che feci 25 anni fa per un live dei Negrita, all'epoca era, e ci ho ripensato, il primo lavoro pagato di grafica, poi ci ritorni dopo 25 anni e diventa il tuo per un progetto a cui tieni molto. Un progetto imprenditoriale piuttosto impegnativo, voi state andando avanti con le vostre forze, e quindi, insomma, gambe in spalla, c'è anche una start-up, quindi quarantenni, non solo retini? Non solo retini, sì, con base ad Arezzo, però sì, quarantenni che ci siamo buttati in questa ennesima avventura, oltre alle tante cose che facciamo, sì, la start-up avrà un ufficio qui, con la start-up stiamo portando avanti, insieme a un'azienda statunitense, dei progetti, dei software basati sul robot antropomorfo, stiamo cercando di semplificare l'utilizzo del robot, per velocizzarne proprio la produzione dei video, eccetera, e renderla più semplice, perché per utilizzare quel robot servono tre mesi di corso. Quindi voi svilupperete assieme all'azienda il software, sostanzialmente? Sì, la start-up è già attiva da un anno, quindi stiamo già da un anno collaborando con questa azienda statunitense e insieme stiamo portando avanti questo software. Senti, che cosa ti aspetti, ultima domanda, da questo 2023, quando, insomma, qui sarà tutto a regime? Ma io aspetto di vedere tante aziende, tante fotografie amici, tante case di produzione che usino questo posto e lo facciano lavorare. Cioè, la mia soddisfazione è davvero vedere tutti i fotografi amici che conosco, che comunque sto invitando e ci hanno anche aiutato con dei consigli, farli divertire qui, perché il nostro obiettivo è dargli ad Arezzo quello che possono trovare in Italia solo a Milano. E' già, e questo è importantissimo. Grazie a Simona Santi Laurini e a Marco Talladira per questo interessante approfondimento.